Musica Tragedia ripalta di Cartoceto, 83enne, muore travolto da un albero che stava tagliando. Giornata in ricordo delle vittime di mafie, oggi l'incontro tra forze dell'ordine e studenti dell'Istituto Donati di Fossombroni. Giuseppe De Leo ritira la sua candidatura a sindaco di Fano. Amareggiato commenta sono prevalsi forti interessi di partito e personalismi che hanno creato evidenti spaccature. Proseguono da parte di Aset i lavori di sostituzione delle lampade ad incandescenza con quelle di ultima generazione. Per la fine del 2024 le vie di Fano saranno completamente a LED. Il 23 e 24 marzo tornano le giornate fai di primavera a Fano, apertura eccezionale di un'area sotterranea dove spiccano i resti di una villa suburbana di età romana, un sepolcreto e i resti medievali dell'abbazia di San Paterniano. Cent'anni di sport e di passione al via i festeggiamenti per il centenario della bocciofila La Combattente di Fano, domenica la giornata delle celebrazioni. Premio la fortuna d'oro questa sera dopo il Tg, la cerimonia di consegna ad Anna Falcioni e Paolo Tofoli in diretta su Fano TV. Nuovo appuntamento con l'informazione locale di Occhio alla Notizia, benvenuti sul canale 19 di Fano TV. In primo piano la tragedia che si è verificata a ripalta di Cartoceto dove un 83enne è stato travolto da un albero che stava tagliando in un fondo di sua proprietà. A lanciare l'allarme è stato il fratello presente al momento del fatto. I sanitari hanno anche allertato l'egliambulanza ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri di Fano. Questa mattina è stato convalidato l'arresto di un ventenne fermato per droga al Pincio di Fano. Il giovane era stato fermato ieri durante un controllo congiunto dei carabinieri della polizia locale con l'ausilio dell'unità cinofila di Pesaro. Con la scusa di dover prendere i documenti da esibire, il ragazzo era salito su un autobus dove invece aveva ceduto lo stupefacente in suo possesso ad un altro soggetto. Alla vista del passaggio era intervenuto un militare. Il ventenne però si era divincolato per tentare di scappare provocando la caduta di entrambi. Il militare ha riportato lievi lesioni mentre il giovane che aveva 40 grammi di stupefacente e 20 euro in contanti, ritenuti proventi dello spaccio, è stato arrestato. Oggi ha patteggiato la pena di otto mesi di reclusione ed è stato rimesso in libertà. Negli stessi controlli il cane antidroga aveva affiutato altra sostanza dello stesso tipo, nascosta tra la corteccia di una pianta forse appartenente allo stesso indagato. A Pesore invece il personale della Polizia Ferroviaria ha denunciato un 57enne italiano per i reati di ricettazione e truffa. In particolare il 18 marzo gli agenti hanno controllato l'uomo che circolava in bicicletta sul primo marciapiede della stazione. Proseguendo l'attività di vigilanza la Polfer ha notato che il 57enne dopo qualche minuto non era più in possesso del veicolo passato nelle mani di un'altra persona che stava per prendere un treno regionale in arrivo al quarto binario. Così si è proceduto al controllo di quest'ultima ed è emerso che la bici era stata appena acquistata per la cifra di 40 euro e che gli accordi erano stati presi su Facebook. Dagli accertamenti è anche emerso che la bici era stata rubata qualche giorno prima, riconosciuta poi dal legittimo proprietario che nel frattempo aveva asporto denuncia, gli è stata restituita. In occasione del 21 marzo, giornata in ricordo delle vittime di mafie, si è svolto un incontro tra forze dell'ordine e studenti dell'Istituto Luigi Donati di Fossombrone. C'era per noi Marco Lonigro. Ricorre oggi, giovedì 21 marzo, la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Una data che unisce l'Italia nel ricordo di persone che hanno sacrificato la loro vita per combattere la criminalità organizzata. Per l'occasione a Fossombrone, nell'Istituto di Istruzione Superiore Luigi Donati, si è svolto un incontro tra forze dell'ordine e studenti. Estremamente importante, non solo per questo istituto ma per tutti i ragazzi di Fossombrone. Una giornata che ricorda quante persone lavorano dietro questa piaga, quante vittime ci sono state ed è giusto che loro sappiano come rapportarsi anche con le istituzioni. Sappiano che le istituzioni qui rappresentate sono vicine nel proteggerli e nel cercare anche di portare testimonianza affinché questi ragazzi abbiano uno scorcio del vissuto, di quello che è stato, con la speranza che il futuro sia più roseo e il futuro non debba per forza far ricorso a tante vittime. Condividere queste giornate con i nostri studenti ed in generale con tutta la comunità scolastica è fondamentale. Quando si parla di ordine, sicurezza pubblica e tutela della legalità c'è bisogno che si superi quella naturale spersonalizzazione che ci rimanda in qualche modo al concetto di istituzione come un qualcosa di lontano da noi ed ecco che abbiamo voluto dar voce alle persone, quindi non semplicemente alle massime rappresentanze dello Stato a livello territoriale, ma alle persone a come nella loro quotidianità ogni giorno si impegnano per garantire la sicurezza di tutti noi. Una giornata fondamentale ha dichiarato il prefetto di Pesaro Urbino Emanuela Saveria Greco. Testimonianze e approfondimenti sul significato di cultura mafiosa hanno arricchito l'incontro. Parlare della cultura mafiosa che è una cosa diversa, la cultura mafiosa è quella del bullo, la cultura mafiosa è quella che muove la mano di un uomo contro una donna, la cultura mafiosa è il revenge porn, è tutto quello che si fa su internet per offendere, per prevaricare. Ecco quindi gli studenti devono comprendere che la mafia la combatte lo Stato, ma la cultura mafiosa la dobbiamo combattere tutti e tutti insieme. Si è parlato di cultura mafiosa, qual è la situazione sul territorio della provincia di Pesaro Urbino? Allora, se si parla di mafia, diciamo che non abbiamo evidenze della presenza della mafia nel nostro territorio, questo mi sembra un'ottima notizia. Se si parla di cultura mafiosa e quindi di bullismo piuttosto che di femminicidio o altro, beh, questo purtroppo è una cultura diffusa che deve vederci tutti quanti fare squadra. Testimonianze, racconti, quanto è importante condividere queste giornate con gli studenti? È importantissimo perché noi tutto quello che potevamo fare, o quasi tutto, perché un po' di tempo ancora ci rimane, l'abbiamo fatto, dobbiamo per forza passare il testimone a questi giovani, i quali forse sentendo dalle nostre voci episodi che sembrano magari lontanissimi, prendono ancora più coscienza di quanto sia importante il lavoro che loro faranno quando noi finiremo il nostro. Avete realizzato un sito web con all'interno tutte le informazioni riguardanti le organizzazioni criminali, come nasce il progetto? Allora, inizialmente quest'idea nasce, diciamo, da un progetto che veniva attualizzato in maniera individuale, abbastanza nella classe, massimo nel piano, nell'istituto tecnico. Successivamente ci siamo messi in gioco, abbiamo deciso di attuare questo sito a partire da febbraio, quindi c'è stato anche abbastanza lavoro dietro la realizzazione di tutto il sito. Siamo orgogliosi di essere qui oggi, il 21 marzo, con il nostro sito a rappresentare quella che è la memoria e il ricordo di tutte le vittime mafiose. Abbiamo deciso di realizzare questi siti attraverso WordPress, che ci ha permesso di facilitare quanto riguarda le tempistiche, la realizzazione dei siti, e abbiamo deciso di parlare in maniera generale di quelle che sono le quattro organizzazioni mafiose italiane, quindi Cosa Nostra, Landrangheta, Camorra e Sacra Corona Unita. Abbiamo realizzato questi siti per, diciamo, divulgare tutte le informazioni di queste organizzazioni criminali e ci siamo anche interessati anche alla ricerca su queste informazioni, magari che non vengono quotidianamente ricercate in maniera autonoma. E quindi possiamo dire che siamo grati di essere qui oggi e di presentare il nostro sito in questa importante giornata. Schock a Isola del Piano dove è comparsa una svastica incisa nella lapide del monumento ai caduti nel piazzale dei tre partigiani. Il presidente della provincia, Giuseppe Paolini, sindaco di Isola del Piano, condanna fermamente l'accaduto. L'autore o gli autori ha commentato che si dovrebbero vergognare. Sfreggiare la memoria dei nostri paesani morti nelle guerre è abominevole. Un'offesa tremenda, ingiustificabile, che dimostra tutta l'ignoranza del caso. Mio padre mi portava qui, davanti a questo monumento, e diceva «Queste persone sono morte per te. Ora la ripuliremo», dice il presidente della provincia, «Ma spero che quando sarà ricollocata al suo posto ognuno si avvicini a questi nomi con il dovuto rispetto». Entro la fine dell'anno Fano sarà completamente full LED. Proseguono da parte di Aset i lavori di sostituzione delle lampade ad incandescenza con quelle di ultima generazione. Siamo andati a vedere. Proseguono gli interventi di relamping nella città di Fano, ovvero la sostituzione dei corpi illuminanti tradizionali con apparecchi a LED di ultima generazione e a basso consumo. Dalla fine dello scorso anno sono iniziate le prime operazioni a macchie di lopardo su tutto il territorio comunale da parte di Aset S.p.A. Questo perché le lampade di varie categorie, formate da più o meno LED, sono state scelte sulla base della tipologia della strada in cui andranno installate. «Questo è un momento nel quale la città si sta rivoluzionando. Ci sarà un nuovo impatto sia visivo che dal punto di vista della sicurezza perché stiamo cambiando tutte le fonti di illuminazione con delle nuove più performanti». Sono oltre 13.000 i lampioni sparsi per tutta Fano, 4.000 già convertiti a LED, mentre i restanti 9.000 in fase di sostituzione che dal classico colore arancione verranno trasformati in luce bianca con la possibilità di abbassare la luminosità a seconda delle situazioni. Con questi nuovi impianti sarà possibile inoltre notare subito tramite telemetria se un singolo lampione ha dei guasti o semplicemente non è acceso. «E' un salto qualitativo sia della quantità che della qualità della luce e siamo già a 2.300 pezzi sprafonieri installati e devo dire che riscontriamo feedback positivi in ogni quartiere. Ma questo era nelle cose perché il progetto è stato studiato nei minimi dettagli in quanto addirittura nasce oltre al calcolo in luminotecnico da dei test che abbiamo fatto per tipologia di via proprio per non esasperare da un lato, anche se molto importante, il risparmio energetico ma dosarlo anche con un salto di quantità di luce che porta di per sé sicurezza e anche innovazione e risalto alla città di Fano. Il progetto è nato in collaborazione con l'amministrazione in cui Aset è il braccio operativo e finanzia insieme al Comune». Nel frattempo le squadre sono all'opera tramite l'ausilio di un camion cestello nella sostituzione di circa 65 corpi illuminanti al giorno. «Molto probabilmente entro ottobre dell'anno in corso prevediamo di completare la sostituzione e di iniziare il monitoraggio completo dei risparmi già a dicembre di quest'anno o a gennaio del prossimo anno. Però, già visto che il progetto comunque è in corso, si possono già iniziare a vedere i primi risparmi nelle bollette dell'illuminazione pubblica. Infatti già a gennaio e dicembre dell'anno scorso già registriamo un risparmio di circa il 10-12% di energia elettrica, quindi un equivalente di circa 500 MWh all'anno». A Cartoceto sono partiti alcuni interventi di messa in sicurezza stradale e di ripristino degli asfalti di numerosi tratti del territorio comunale. A seguito dell'estensione e del potenziamento delle linee elettriche sono stati avviati gli asfalti delle vie Pieve, Aldomoro, Fiume, Oberdan, San Giovanni e San Marco. Inoltre è di prossimo avvio il cantiere di Via della Repubblica che prevede l'asfaltatura del tratto tra Via Vespucci e Moro e di tutto il parcheggio di fronte alla delegazione comunale così come l'ampliamento di piazza Giovanni Paolo II. Quest'ultimo intervento, che include anche il rifacimento dell'insegna della piazza e l'installazione di alcuni elementi di illuminazione, ha l'obiettivo di spostare l'attraversamento pedonale attualmente posizionato sul retro delle auto in sosta al fine di rendere più sicuro il passaggio di pedoni e diversamente abili. Da ultimo, sono previsti alcuni lavori su via piana per una messa in sicurezza del transito dei mezzi. Ed ora passiamo alle vostre segnalazioni. Oggi un reporter di strada ci ha inviato diverse fotografie per denunciare la pericolosità di un pozzo che si trova nella zona dell'ex aeroporto di Fano. Si tratta, ha precisato il telespettatore, di un pozzo profondo 7 metri ubicato a 100 metri al vecchio hangar in direzione Vallato. Ai primi di gennaio era stato posto dalla polizia locale un semplice nastro in plastica indicante pericolo. I ragazzi dei quartieri limitrofi, aggiunto, attratti da questo luogo misterioso, hanno più volte continuato ad esplorare il sito esponendosi al pericolo di caderci dentro. Si chiede da parte di numerosi genitori allarmati di porre in sicurezza l'imboccatura di questo pozzo ricoprendo con appositi lastroni in cemento. E proseguiamo con altre fotografie dove questa mattina un altro telespettatore ci ha contattati per chiedere i lavori di asfaltatura in via del risorgimento a Fano all'altezza del nuovo parcheggio o quantomeno la copertura di due grosse buche pericolose per i veicoli. La nostra redazione si è subito attivata contattando l'assessore di competenza che ha girato la segnalazione ai tecnici e in meno di due ore la ditta è intervenuta per chiuderle. Invece è stato installato, dopo la segnalazione arrivata alla nostra redazione, il cartello stradale di precedenza all'ingresso della rotatoria di via Moriconi a Rosciano di Fano che nei giorni scorsi era accaduto a terra. Ce lo fa sapere il telespettatore che ha ringraziato del tempestivo intervento. Sei mesi dopo aver presentato alla città il suo progetto politico Giuseppe De Leo ritira la sua candidatura a sindaco di Fano. La notizia arrivata ieri sera è stata data tramite un comunicato stampa a firma del suo movimento civico. Dobbiamo prendere atto, si legge nella nota, che non si sono recreate le condizioni per poter competere con altre coalizioni politiche che nel frattempo si sono formate. Sono prevarsi ancora una volta forti interessi di partito e personalismi che hanno creato evidenti spaccature e che rischiano di allontanare sempre di più i cittadini dall'andare a votare. In questa situazione, nonostante positivi riscontri quotidiani dalla gente e da autorevoli sondaggi, riteniamo non utile procedere nella nostra iniziativa che rischia di essere una sterile e inefficace testimonianza. Mi faccio da parte, ha commentato De Leo, e auguro una buona campagna elettorale a tutti i candidati auspicando che chi vincerà le elezioni ha ministri con capacità e onore nell'interesse esclusivo dei nostri cittadini. Passiamo alla maxivariazione di bilancio discussa e bocciata ieri in Consiglio Comunale a Fano. Ce ne parla Giovanni Fontana del Movimento 5 Stelle. Tra i vari punti all'ordine del giorno, ieri in Consiglio Comunale a Fano avete parlato anche di questa variazione di bilancio. Che cosa è emerso? Che cosa è stato deciso? Siccome c'erano alcune voci particolari, di fatto questa delibera non è stata bocciata dalla maggioranza dei consiglieri comunali presenti. Quindi è stata una sonora bocciatura per la maggioranza attuale, anche se questa maggioranza attuale sembra che sia un po' allo sfascio, perché c'erano assessori che contemporaneamente ieri avevano degli incontri, assessori che hanno lasciato il Consiglio Comunale durante la seduta. Insomma, non è stato un bello spettacolo. Che cosa c'era in questa variazione? Esatto, in questa variazione, in lo specifico, c'erano diverse voci, c'erano tante cose che erano condivisibilissime, come per esempio l'acquisto della casa per il museo, l'orto di mare a Metoriglia per 65 mila euro, l'aumento dei ticket per i dipendenti del comune da 5 euro a 25 a 7 euro, che doveva decorrere il primo luglio. Speriamo, perché per questo almeno si faccia in tempo a fare qualcosa per far sì che i dipendenti comunali possano avere questo aumento del ticket. C'erano tante voci che erano condivisibili. C'era per esempio il finanziamento per eliminare a Porta Maggiore quello brobrio che sta da mesi lì per fare una struttura con lo che da parte della sovrintendenza. C'erano tantissime voci che attendavamo da tempo, però c'erano anche alcune, come per esempio i 100 mila euro in più per la pista del pump track, che sembrava che quelle macerie che hanno trovato erano cadute dal cielo, ma si sapeva benissimo che c'erano quel tipo di struttura lì precedentemente. Oppure i mitici oramai 30 mila euro per la relazione di fine mandato da parte del sindaco, con 20 mila euro per la stampa di Deppliant eccetera, 10 mila euro per un evento alla cui domanda fatta da diversi consiglieri, personalmente da me, dal consigliere Marcheggiani, da un consigliere della Lega, il sindaco non ha assolutamente risposto, quindi non ci ha fatto sapere questo evento, che tipo di evento sarebbe stato, ma con 10 mila euro sicuramente sarà un bellissimo e un costosissimo evento che ha fatto saltare dalla sedia diversi consiglieri e probabilmente questa è stata la molla scatenante che ha fatto sì che alcuni consiglieri si assenessero o addirittura votassero contro anche della maggioranza. Dopo questa sonora bocciatura speriamo che l'amministrazione comunale, gli assessori e tutta la Giunta si passi la mano sulla coscienza, strarci le voci che sono più contestate, presenti negli ultimissimi consigli comunali, perché fra un mese la gestione, diciamo ci sarà solo la gestione ordinaria, quindi questo tipo di delibere non saranno più possibili, presentino una delibera con meno voci, con quelle voci che possano essere votate da tutti i consiglieri comunali che la cittadinanza aspetta da diversi mesi. Venerdì 22 marzo ricorre il quarto anniversario della morte di Italo Nannini e anche quest'anno l'Africa Chiama, associazione da lui fondata, lo ricorda con l'iniziativa Non Voltarsi, destinando i fondi raccolti ai bambini e alle bambine di Gaza, vittime innocenti di guerra e fame. In particolare, ha spiegato Raffaella Nannini, figlia di Italo e coordinatrice dell'Africa Chiama, abbiamo deciso di sostenere l'associazione Gaza Freestyle che fin dall'inizio del conflitto ha attivato la campagna SOS Gaza attraverso la quale sta garantendo migliaia di pasti caldi ogni giorno, la distribuzione di pacchi alimentari e generi vari ai civili e attività di gioco e supporto psicologico ai più piccoli. Inoltre, per la giornata di domani è previsto un doppio appuntamento alle ore 19 nella parrocchia Santa Famiglia nel quartiere di Fano II si terrà una santa messa e alle ore 21 nella Sala della Cultura di Fano si svolgerà l'incontro Non Voltarsi Israele e Palestina, quale pace? con Anna Maria Selini, giornalista ed esperta di aree di crisi che dialogherà con Luciano Benini della Scuola di Pace di Fano. Prendono il via questo fine settimana le giornate FAI di Primavera a Fano per l'occasione verrà aperta al pubblico un'area archeologica sotterranea nell'angolo tra Via Roma e Via dell'Abbazia ma scopriamo di più nel prossimo servizio. Scoprire luoghi solitamente inaccessibili è l'obiettivo del gruppo FAI che quest'anno lo fa attraverso un'apertura eccezionale e unica alla città. Si tratta di un'area archeologica sotterranea situata all'angolo tra Via Roma e Via dell'Abbazia scoperta nel 2004 durante i lavori di realizzazione del grande edificio oggi esistente. Da quella volta l'area è stata chiusa al pubblico e frequentata solo da tecnici e studiosi ma in occasione di questo appuntamento sarà possibile ammirarla da chiunque in tutto il suo splendore attraverso visite guidate di 30 minuti. Il 23-24 dalle 10 alle 12 e mezza dalle 15 alle 18 e 30 occorre prenotarsi e per chi si iscrive al FAI non c'è bisogno né di prenotazione né di niente perché neanche di fare la coda per cui entrerà è uno dei vantaggi di iscriversi al FAI per cui si potrà accedere alla visita nel momento in cui arriva. All'interno di questo posto saremo seguiti dagli alunni del liceo scientifico del liceo Apolloni e della scuola dell'istituto Livetti. Nel dettaglio che cosa vedrà il pubblico? Lo spettatore che verrà qua sabato e domenica vedrà i resti di una villa romana suburbana di periodo tardo-repubblicano e imperiale raccontata attraverso mosaici e da freschi. Sul abbandono di questa villa si è sviluppato poi un grande sepolcreto che ha distrutto e in parte danneggiato le strutture della villa precedente e tante se ne incontrano all'interno dei pavimenti sia fatte con strutture di tegole che con strutture in muratura sepolture singole e sepolture multiple che raccontano la vita di un grande cimitero che era esteso qui dal periodo tardantico fino agli inizi dell'Ottocento. Quali sono i reperti che sono stati rinvenuti in questo scavo? Da questo scavo provengono parecchi reperti numerosi reperti che abbiamo in custodia sia noi sia in parte il comune di Fano e sia anche in realtà al Museo archeologico nazionale delle Marche. Sicuramente tra i più forze interessanti ci sono delle urne che raccolgono i resti incineriti di alcuni abitanti dell'epoca oltre un tesoretto anche monetale molto interessante e come si può vedere alle mie spalle in realtà poi anche le strutture che sono state rinvenute ci sono anche dei ampi lacerti di affreschi conservati sul posto cosa che è abbastanza direi rara se non unica per Fano. Naturalmente ecco il merito del FAI è che con iniziative di questo tipo ci aiuta a mettere come dire un focus, un'attenzione tra le tante realtà archeologiche di cui ci occupiamo come soprintendenza ci aiuta a focalizzare a volte delle realtà che magari rimangono un po' più indietro ma che invece sono meritevoli di essere nuovamente riviste e rivalorizzate. A Mondolfo invece gli apprendisti ciceroni della scuola secondaria di primo grado accompagneranno i visitatori alla scoperta in via del tutto speciale di due luoghi simbolo la chiesa monumentale di Sant'Agostino e l'oratorio di San Giovanni De Collato all'interno del centro storico per l'occasione saranno aperti anche l'armeria del castello e il museo civico. Ora andiamo a San Costanzo protagonista di 50 per 50 capitali al quadrato. Domani venerdì 21 marzo alle ore 15 sarà possibile mettere le mani in pasta per preparare la crescia della stacciola assieme agli impastatori e alle cuoche per poi assistere alla cottura da parte dei fornai nei forni a legna seguirà una cena con prenotazione obbligatoria alle ore 18 invece alla cantina Bruscia verrà presentato il libro Incrocio Bruni 54 un vitigno marchigiano con l'autore Raffaele Papi seguirà un incontro intitolato il conte Giulio Perticari il personaggio e la bolla a cura dello scrittore ed enogastronomo Alfredo Antonaros del sommelier e delegato AIS di Pesaro Raffaele Papi ed enologo David Soverchia alle ore 20 al ristorante Locanda La Cerasa verranno proposti tre pilastri culinari il diaframma di Manzo la trippa marchigiana e gli spiedini di Fegatello la giornata si concluderà in teatro con la commedia dialettale dell'associazione Nuova Cerasa dal titolo Anico de Venerdì fondata nel 1924 la bocciofila la combattente di Fano ha compiuto cento anni un anniversario questo che caratterizzerà tutte le iniziative che verranno organizzate nel corso dell'anno a partire da un'assemblea aperta al pubblico che si svolgerà domenica prossima nella sala di rappresentanza della fondazione Carifano la combattente un'associazione di nome e di fatto da cento anni presente nella città di Fano con tutte le sue attività all'inizio una bocciofila ora una polisportiva con tante tante iniziative e proprio questo anniversario verrà festeggiato con grande rilievo domenica prossima Presidente Gasparelli che cosa ci aspetta domenica prossima domenica è prevista organizzata in questo modo al mattino alle nove ci sarà una funzione religiosa la messa dove verranno date anche delle palme benedette dopodiché alle ore nove dopo di che ci spostiamo alla sala di rappresentanza della fondazione di Cassa di Risparmio che ci ha concesso molto gentilmente dove ci sarà una conferenza una tavola rotonda con la presenza di autorità nel mondo sportivo e non solo sempre nella nostra sede ci sposteremo per le ore 13 per il pranzo dove avremo anche la diciamo la fortuna di avere con noi il vescovo di Fano ecco lei ha menzionato diversi sport oltre alle bocce e quindi la combattente si è allargata anche da altre attività sì io lo ritengo necessario perché dobbiamo proporci in più tipi di attività sportive perché il mondo delle bocce è un mondo che non ha un grosso rinnovamento è vero che noi abbiamo parecchi giocatori abbiamo anche dei ragazzi diversamente abili però dobbiamo anche proporci i costi sono talmente elevati per la nostra struttura che non è sufficiente con questa solo con lo sport delle bocce dobbiamo proporci anche per altre attività il mondo degli scacchi che è in forte crescita in crescita incredibile ci sono ragazzi delle scuole elementari addirittura che partecipano persone di tutta l'età voglio dire noi abbiamo organizzato le gare si vedono degli scontri tra ragazzini delle scuole che hanno appena superato la quinta elementare con delle persone con i capelli bianchi e quindi è una cosa veramente straordinaria e in più abbiamo anche una squadra quest'anno di biliardo bowling siamo iscritti regolarmente alla federazione biliardo e partecipiamo al campionato regionale in Ancona nella categoria B non solo sport perché la struttura della combattente è una struttura aperta anche alla società alla cultura di fan debbo ringraziare chi ha avuto la lungimiranza di costruire una struttura così così grande e oggi questa struttura è a disposizione della comunità è a disposizione delle associazioni è a disposizione per tanti eventi ma la città potrebbe fare anche qualcosa per voi che cosa chiedete certo che questa struttura per essere utilizzata e voglio dire partecipata da tutti ha bisogno o per essere utile per certi eventi ha bisogno delle migliorie ha bisogno dei lavori ha bisogno della manutenzione ha bisogno per salire nella sala superiore di un montacarichi per dare la possibilità ai diversamente abili per poter aderire per poter frequentare abbiamo bisogno di un impianto fonico che sia migliore di quello che abbiamo adesso abbiamo bisogno che qualcuno ci dia una mano perché questa struttura debba essere utilizzata dalla comunità ed è tutto adesso previsioni del tempo e poi dal teatro della fortuna trasmetteremo in diretta la cerimonia di consegna del premio la fortuna d'oro che verrà consegnato ad Anna Falcioni docente universitaria e presidente del centro studi malattestiani di Fano e Paolo Tofoli uno dei giocatori più vincenti nella storia della pallavolo italiana grazie per averci seguito vi auguro una buona serata sul nostro canale grazie per averci seguito